In occasione della giornata internazionale del migrante, il Teatro Vittoria di Torino ha ospitato, domenica 18 dicembre, la prima nazionale dello spettacolo La Zucca Vuota, mezzanotte di un'illusione, atto unico in 12 rintocchi, una cenerentola straniera fra gli stranieri, clandestina tra i clandestini, ultima fra gli ultimi. Lo spettacolo, realizzato dall'Associazione Culturale Liberi Pensatori Paul Valery e organizzato dal Comitato Regionale Diritti Umani, ne ha chiuso idealmente le attività del 2016. Grazie a tutti.